Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di storia. Vi siete già iscritti al canale? Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Oggi approfondiremo la conoscenza delle repubbliche marinare. Quali erano le repubbliche marinare? Ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Ricordi? Le città marinare sono Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. Perché le repubbliche marinare durante l'epoca delle crociate divennero sempre più ricche e più potenti? Perché i viaggi dei crociati verso la Terra Santa avvenivano per lo più sulle loro navi che trasportavano persone e cibo? Le repubbliche marinare fornivano inoltre le navi da combattimento, le armi e le macchine dal sedio. Facevano anche prestiti in denaro. Come mai? Offrivano questi servizi? Perché ne ricavavano in cambio parte del bottino di guerra e la concessione di basi commerciali. Osserviamo attentamente questa carta che mostra le rotte commerciali delle città marinare. In giallo troviamo le rotte di Genova, le basi commerciali e gli empori di questa città. In blu invece quelli di Venezia, in rosa quelli di Pisa e in verde le rotte, le basi commerciali e gli empori di Amalfi. Le città, ben presto, avendo sviluppato queste rotte commerciali così intense e frequentate, divennero rivali. Ognuna voleva avere il controllo delle rotte commerciali principali del mar Mediterraneo. La città di Amalfi fu la prima a perdere potere perché con l'arrivo dei Normanni nel 1073 non era più una città libera e così finì per non interessarsi più ai commerci. Pisa invece dapprima si alleò con Genova per combattere i pirati saraceni che dalla Sardegna e dalla Corsica attaccavano le navi che transitavano nel mar Tirreno. Dopo aver sconfitto i saraceni, Pisa prese il controllo della Sardegna e Genova il controllo della Corsica. Ma in un secondo momento le due città divennero rivali al punto da farsi la guerra. Così Genova sconfisse Pisa nella battaglia della Meloria nel 1284 e rimase sola con Venezia a lottare per il dominio sul mare. Dunque, mentre Amalfi e Pisa si indebolirono, Genova invece rafforzava il suo potere. Per tutto l'alto medioevo Venezia era stata sottoposta all'impero bizantino e aveva ottenuto importanti privilegi che la resero ricca. Divenne il porto bizantino più importante dell'Adriatico. Arricchendosi sempre di più, si era resa anche più autonoma dal potere imperiale. Fino a quando, nel IX secolo, i Veneziani affidarono il governo a un duca, detto Doge, scelto tra le famiglie più potenti di mercanti e armatori. Gli armatori erano coloro che finanziavano la costruzione delle navi e organizzavano ogni aspetto dei viaggi. Nel basso medioevo, Venezia provò a prendere il controllo diretto delle vie commerciali, anche di terra, che arrivavano dall'estremo oriente. Aprì empori e basi commerciali in Dalmazia, in Egitto, in Grecia, in Turchia e occupò isole strategiche, come Creta e Corfu. Lo scontro militare e politico con Genova fu dunque inevitabile. Durò secoli, ma nessuna delle due città riuscì mai ad annientare l'altra. Ora tocca a te. Conosci Marco Polo? Chi è? Perché è così famoso? La sua esperienza dimostra il desiderio di controllare direttamente le vie commerciali che arrivavano nell'estremo oriente da parte di Venezia. Fai una breve ricerca in rete e prepara una presentazione digitale per mostrare ai tuoi compagni chi è Marco Polo e per quale motivo è così famoso. L'espansione commerciale nel Mediterraneo fu possibile anche grazie ad imbarcazioni sempre più affidabili e di grandi dimensioni. Venne perfezionata la galea che divenne più veloce e manovrabile. Era lunga, sottile e veloce proprio grazie all'impiego di più file di rematori. Era particolarmente adatta alla guerra, inizialmente meno usata per i commerci. Successivamente lo scafo fu ampliato e in questo modo progredì anche la capacità di carico. A partire dal XIII secolo fu sviluppato il modello della nave tonda, più lenta della galea ma molto più capiente e più adatta a scopi commerciali. Lo scafo, come vediamo nell'immagine, era tondeggiante, panciuto, i fianchi erano alti, la prora era poppa rialzate per avere una migliore tenuta del mare. Sfruttava solo la forza del vento ed era adatta alla navigazione in alto mare. Navigare rimaneva comunque pericoloso e assai scomodo. Ora tocca a te. Leggi attentamente queste domande e rispondi sul tuo quaderno. Una volta tornato in classe, confronta le risposte con quelle dei tuoi compagni. Le città marinare trassero vantaggio dalle crociate? Perché? Le città marinare furono Amalfi, Pisa, Napoli e Venezia? Genova sconfisse Venezia nella battaglia della Meloria? Non mi resta che augurarti buon lavoro! A presto ragazzi! Lasciate il like! Vi aspetto alla prossima lezione! Arrivederci! Grazie mille! Grazie a tutti.